Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura, la tua radio. Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Grazie. 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 Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Giallo Radio Club. Oggi è veramente una puntata specialissima e soprattutto è una puntata che prende spunto da una richiesta proprio di alcuni nostri radioascoltatori. Quindi li saluto, speriamo che siano qui all'ascolto perché ho seguito i loro consigli e quindi ho deciso di dedicare questa puntata a questo mito non solo della cinematografia ma anche nell'immaginario collettivo delle arti marziali a Bruce Lee, la cui morte resta avvolta dal mistero. E poi parleremo anche di Brandon Lee, di suo figlio, che anche lui fu ucciso, sembra involontariamente comunque è tutto molto molto misteriosamente strano, sul set del film Il Corvo, lo ricorderete famosissimo. Ne parleremo oggi con un ospite veramente eccezionale perché possiamo dirlo senza proprio essere smentiti, siamo certi di questo. Lorenzo De Luca, sceneggiatore e il più grande forse conoscitore in Italia di Bruce Lee e di Brandon Lee. Giusto? Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Laura, a te e ai tuoi ascoltatori. Non so se sia giusto, diciamo qualcuno lo pensa, io no, ma insomma qualcuno mi attribuisce questa... Va bene, infatti io sono arrivata a te tramite persone che sono legate ovviamente al mondo delle arti marziali. Tramite il maestro Roberto Castagnini della Modern Silat Academy che è in Italia uno dei prosecutori del concept di Bruce Lee del GIT.O, quindi uno di quelli che hanno importato questa concezione del combattimento qui in Italia e quindi lo salutiamo. Infatti lo salutiamo, speriamo che ci ascolti. Nel caso comunque come tutti si può recuperare il podcast su radiolibertà.net oppure andare su YouTube Radio Libertà Canale Alternativo e si trova anche il video. Ricordiamo, telefoni aperti, mi raccomando a Lisetta che mi ha chiesto, quindi a questo punto può chiedere tutto quello che vuole a Lorenzo De Luca 0292947222 o Whatsapp 3466427756. Lorenzo, se tu mi permetti, faccio un brevissimissimo escorso proprio sulla vita di Bruce Lee per ricordare ai nostri radioascoltatori, ovviamente lo conoscono, sanno tutti chi è, anche chi magari non segue come me in particolare quel tipo di cinema, però non può... È universale, è universale. Insomma, nessuno, voglio dire, io penso che non ci sia nessuno che una volta nella vita non abbia visto un film, almeno quello. Allora nasce a San Francisco, quindi è Bruce Lee, americano. Incidentalmente. Incidentalmente. Perché il papà era in torneo. Infatti, il 27 novembre 1940 e muore proprio a Hong Kong, il 20 luglio 73 a Hong Kong. Ricordiamolo, fino a pochi anni fa è stato un progettorato inglese, però di fatto è in terra cinese e comunque ha sempre visto questa commissione tra la cultura occidentale e la cultura cinese. È stato dunque un artista, ma anche il fondatore praticamente di quest'arte marziale. Un attore, un regista, uno sceneggiatore, produttore cinematografico. Insomma, forse è stato il più influente, anzi il primo fondatore del Jack Kondo, adesso ci spiegherà bene Lorenzo cos'è. I suoi film furono prodotti sia a Hong Kong che a Hollywood e ovviamente hanno portato poi questa arte, come avete visto in questa bellissima clip che ha scelto Lorenzo e che abbiamo voluto proporvi, fatta di profondità mentale più che, ed è quello il bello, penso, di Bruce Lee. Adesso poi insomma ce lo spiegherà meglio lui. Cioè il fatto che non è violenza allo stato puro così solo fisica assolutamente e regime concentrazione mentale è sentita. La morte avviene il 10 maggio, no scusate il 10 maggio, quando si sente male la prima volta, il 20 luglio 1973 mentre si trovava a Hong Kong a casa di Betty Ting Pei. Quindi si è detto, poi dopo ne parleremo meglio della morte, appunto che sia morto per un edema celebrale, cause accidentali, forse una reazione allergica ad un medicinale. Sta di fatto che questa scomparsa è rimasta un po' nell'immaginario collettivo come un mistero ed è per questo che ne parliamo a Giallo Radio Club. Allora Lorenzo, io inizio subito con le domande, ti voglio sfruttare, quindi sarai tu un po' a condurre questo programma. Dici un po' della vita di Bruce Lee e anche un po' di questi misteri che alleggiano prima nella sua vita, poi parleremo della morte. Bruce Lee è stato come molti altri personaggi prima e dopo di lui, scomparsi prematuramente, pensiamo a James Dean, Marilyn Monroe, John Belushi, Elvis Presley. È stato il portatore, in parte volontario, in parte involontario, perché alla fine poi il gioco lo fa il pubblico, che vede in questi personaggi anche più di quello che c'è. Ma in loro c'era moltissimo, intendiamoci. Beh, certo. Quindi lui è stato in questo senso, nel suo caso, negli anni 70, il mondo era ancora diviso dalla guerra fredda. Sì. Oriente e Occidente comunicavano per via diplomatica lo stretto necessario. Quindi Bruce Lee è stato portatore, nella sua breve vita, di questa dicotomia contraddittoria, per cui era visto da noi come un cinese. E dai cinesi come un americano. Quindi questo melange di culture, diciamo questo incrocio etnico e il suo immenso talento di attore e di innovatore delle arti marziali, gli ha permesso di essere in quel momento storico. Difatti il povero Brandon, quando lo intervistai nel 92, mi disse il mondo aveva bisogno di un personaggio come mio padre allora. Non ne avrebbe più bisogno oggi perché il mondo è cambiato. Beh, non lo so, su questo però non so se sono d'accordo con te. Cioè comunque... No, no, questo lo diceva Brandon. Diceva che il padre ha abbattuto una barriera raziale al cinema. Certo, sicuramente. E di conseguenza è diventato un simbolo per tutte le minoranze. Bruce Lee voleva il terzo mondo. Eh sì. E quindi, che fino a quel momento non era mai stato protagonista al cinema. Eh sì. E quindi in questo senso, pur essendo un attore, un marzialista, era visto anche da molti. Come un simbolo politico. Sì. Perché poi, vabbè, insomma, la Cina, ricordiamo insomma, che la Cina ancora oggi influenza tantissimo. No, ma la cosa paradossale, scusa Laura, perché mi hai ricordato una cosa importante nominando la Cina. Bruce Lee era cinese, come tu hai giustamente detto, di Hong Kong. Di Hong Kong, attenzione, certo, certo. In Cina non lo conoscevano. In Cina lo hanno conosciuto solo nel 1980, cioè sette anni dopo la morte. Quindi praticamente rispetto a noi sono arrivati ieri mattina. Perché poi in quel momento la Cina si è cominciata ad aprire. morto Mao Tse Tung, eliminata la banda dei quattro, verso l'occidente. Ma i film di Kung Fu erano, la Cina era l'unico paese che non li produceva e non li vedeva, perché erano stati banditi dal regime comunista, in quanto erano considerati pericolosi. Pericolosi nel senso che in quei film c'è sempre l'individuo. Sì, sì, infatti, avrebbero potuto. L'individualismo, l'eroe contro le istituzioni. Quindi il regime collettivista cinese non li poteva tollerare. Ma nessun film straniero, non solo Bruce Lee. Certo, certo. Quindi paradossalmente noi abbiamo conosciuto Bruce Lee come simbolo delle arti marziali della Cina, mentre la Cina, la patria del Kung Fu, non lo conosceva. Infatti è proprio per questo che è un ponte, cioè è un mito ponte. E poi è diventato un mito ponte, anzi, come dico io, una leggenda ponte, perché tu sai che il mito è un'invenzione dell'uomo. Invece la leggenda è sempre una base di realtà. Lui dopo, nei decenni successivi, mentre il genere arti marziali qui da noi è finito, lui ha continuato a crescere in maniera abnorme, diventando un ponte culturale, un ambasciatore, anche da morto, soprattutto da morto, fra noi e loro, fra noi e un mondo che conoscevamo poco. Senti, tu come ti sei avvicinato e come poi hai sviluppato questa passione e che è stato anche il tuo lavoro, insomma, a Bruce Lee? Ma in maniera molto banale, cioè andando al cinema da piccolo a vedere quei film, laddove era possibile, perché a volte erano vietati, in quanto nonostante la loro violenza oggi faccia ridere, però nel 73 tu capisci. Quindi vedendolo al cinema, poi leggendo su di lui un libro bellissimo, che raccomando a tutti, perché non è scritto da me, quindi è bello, che si intitola Bruce Lee, la sua vita... Prego? Tu ne hai scritti quattro su di lui, giusto? Cinque, cinque. Per fortuna in Italia sono stati i primi di un autore italiano, però c'era questo libro molto bello, che è stato il primo nel mondo su Bruce Lee e che io consiglio sempre, anche se non ho nessun interesse personale, che si intitola Bruce Lee, la sua vita e la sua leggenda, scritto nel 74, edito qui nel 75. Io leggendo quel libro ho riscoperto Bruce Lee dopo morto, poi piano piano conoscendo, prendendo contatti, conoscendo anche il figlio quando venne qui, conoscendo persone che a loro volta avevano conosciuto Bruce Lee, documentandomi piano piano la passione si è trasformata in uno studio relativamente più serio, quantunque una persona realmente adulta e matura, se tale fosse, non dovrebbe fare le scelte che ho fatto io, cioè di diventare uno sceneggiatore, perché in Italia questa non è una cosa augurabile. Comunque. Perché? Cosa dici? Sì, perché io sono allergico alla felicità e quindi ho scelto quella strada. Allora Bruce Lee, ripeto, è diventato nel mondo qualcosa anche oltre le sue aspettative. Lui, attenzione, lui ha voluto e ottenuto quello che voleva ottenere nella sua breve vita, cioè di diventare una star. Quindi non è che è stato un caso. Bruce Lee diceva che non c'è nessuna qualità che possa sostituire l'essere l'uomo giusto al momento giusto. Quindi lui si è allenato fanaticamente come attore, perché Bruce Lee era una star già da bambino a Hong Kong, aveva interpretato 15 film circa, quindi ha incontrato prima il cinema e poi le arti marziali crescendo. Quindi lui si è allenato fanaticamente come attore prima, come marzialista poi, perché è stato sempre graniticamente convinto che sarebbe diventato una star, e anzi lui diceva alla moglie, quando erano ancora fidanzati, diceva io sono già una star, ma il mondo ancora non lo sa. Eh beh, è lo spirito giusto. Era ecocentrico, ma era anche un ecocentrico con talento. La sua ferrea volontà, perché Bruce Lee era un socratico, aveva studiato filosofia, aveva eletto Socrate a suo modello, e lui tra l'altro è stato anche la personificazione di quel detto di Vittorio Alfieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli. Lui ha voluto quello che ha avuto, poi è arrivata questa morte repentina che ha fatto il resto, cioè lo ha trasformato in una leggenda. Quasi che la sua vita fosse stata scritta da uno sceneggiatore, proprio per fabbricare un qualcosa in perituro. Ecco, tu che sei uno sceneggiatore, quindi sicuramente un grande conoscitore del cinema, che cosa aveva dal punto di vista cinematografico Bruce Lee che attirava così tanto anche nel mondo occidentale gli spettatori? Beh, bisogna ricordare che inizialmente negli anni Sessanta, quando lui mosse i primi passi ad Hollywood, come personal trainer di attori quali James Cobb, Steve McQueen, eccetera, e faceva anche piccole parti nelle serie televisive, ma non riusciva ad avere i ruoli che voleva, perché i produttori dicevano sei basso, il bruseli era alto 1,72, quindi insomma, basso poi alla fine. Però all'epoca andavano ancora di moda gli attoriati, c'era John Wayne che era a due metri, e diciamo sei basso, sei cinese. All'epoca c'era la guerra in Vietnam, quindi gli orientali non erano visti bene tutti. E in più il suo inglese, pur essendo molto buono, si sentiva l'accento cantonese, quindi non gli davano quei ruoli da protagonista che lui riteneva di meritare. E tuttavia disse al suo amico ed allievo, Stirling Sillifant, che era il più grande sceneggiatore di Hollywood, premio Oscar per la calda notte dell'ispettore Tibbs, e che era suo allievo, gli disse vedrai che io un giorno diventerò una star a dispetto di tutto e di tutti, a dispetto dei bianchi. Quando poi di rimbalzo è diventato famosa Hong Kong con i suoi quattro film d'arti marziali, anzi tre perché il quarto è uscito costumo, e questa cosa è ritornata a Hollywood a livello di sentito dire ecco che i medesimi produttori che non lo avevano molto considerato, la Warner Brothers, andarono a bussare e misero insieme una coproduzione che sarà poi quella della quale tu, sul mio suggerimento, hai mandato la clip, i tre dell'operazione Drago, che sancirà Bruce Lee nel mondo. Ma solo allora si sono accorti di avere rimandato, rispedito al mittente a Hong Kong, un grande attore il quale, per tornare alla tua domanda, aveva quella qualità, parafrasando Shakespeare, era fatto di quella stoffa di cui sono fatti i sogni. Bruce Lee aveva quella qualità che avevano prima di lui Toshi Romifune, James Cagney, John Wayne, cioè quegli attori, ma anche bravi, non è che non fossero dei bravi attori, ma che soprattutto avevano una magia, un carisma, un carisma che bugava lo schermo, saltava a più e pari le barriere linguistiche e culturali, e quindi comunicava col pubblico di tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che fosse cinese. Dopodiché il fatto che fosse anche cinese, perlomeno a livello di trattisomatici, lo ha aiutato anche a acquisire quel senso di rivalza da parte delle comunità etniche, le minoranze etniche, che al cinema non erano mai state rappresentate, o se lo erano nei film di Hollywood, lo erano in chiave negativa. E beh, ricordiamo anche che la comunità cinese negli Stati Uniti, soprattutto in alcune città grandi, come San Francisco, Los Angeles e New York, è enorme ed è sempre stata enorme, è stata una delle comunità più... per cui come l'hanno accolta loro? Come l'hanno accolta loro? Con questa considerazione perché noi stiamo andando a braccio, e lo dico agli ascoltatori. Sì. Andiamo... È una chiacchierata informale. Penso che l'abbiano capito. Penso che l'abbiano capito. Ma hai ricordato, dicendo questo, che Brusilì emigrò in America nel 59, al compimento dei 18 anni per mantenere la cittadinanza americana. Quando era lì già da due anni, a San Francisco, giusto? Il cinema della Chinatown locale dove stava lui, proiettarono il suo ultimo film che aveva girato a Hong Kong da ragazzino prima di partire, che era The Orphan, un film drammatico sulla delinquenza di strada. Interessante. Che lui aveva interpretato a 17 anni, anzi a 16. E lui andò con i suoi amici, che si era fatto lì nel frattempo in America alle scuole superiori, a vedere questo film là e loro rimasero stupiti nel sapere che loro, questo cinesino qualunque che in America nessuno lo conosceva, lo videro sullo schermo di un cinema delle Chinatown perché a Hong Kong lui era già noto, era già famoso, invece in America dovette ricominciare da capo. Quindi aveva questa doppia anima. I genitori lo spedirono in America oltre che per la cittadinanza, per la verità, per allontanarlo dalla delinquenza di strada perché era stato protagonista insieme alla sua banda di numerosi atti di teppismo, di risse fra bande di strada perché Bruce Lee, sebbene fosse benestante di famiglia, preferiva la parte violenta della vita di Hong Kong, voleva stare con i duri di Hong Kong, i duri della strada. Con la vita difficile e forse è questo che poi gli ha dato quella magia, perché quel carisma, forse anche questo, la durezza della vita. Chi lo conosce dice che lo aveva anche prima, cioè allora lui era nato così, era arrogante, narcisista, fanatico, poi il fatto di essere diventato famoso, già bambino, trasformò il suo narcisismo in una cosa istituzionale quasi, l'incontro con le arti marziali lo aiutò a superare quell'ultimo scalino che era dovuto a fatto che lui fisicamente era svantaggiato, era cieco come una talpa, senza occhiali non ci vedeva da qui a lì, aveva una gamba leggermente più corta dell'altra. Era magretto, no? Era monotesticolare. Ah, pure? Sì, anche. Insomma, era gracile, quindi ogni raffreddore, ogni malattia che arrivava se la beccava lui, quindi lui voleva diventare anche un simbolo della forza fisica, della capacità di combattere e per questo diventò un teppistello. Quindi il padre è preoccupato perché era stato fermato dalla polizia, perché già si parlava in certi ambienti, perché la verità è che la maggior parte dei bambini di strada poi confluivano crescendo nelle triadi, nella mafia cinese. Quindi per allontanarlo anche da quegli ambienti fu mandato in America e l'America fece da freno a Bruce Lee che era scatenato. Bruce Lee non era come nei film dove a volte fa il contadinotto sempliciotto, timido. Bruce Lee era una dinamite, era una forza della natura, prevaricava le persone. Come diceva la moglie, è difficile sopportarlo per chiunque non sia io. Senti, ma l'arte marziale, no? Come entra nella sua vita e soprattutto come entra poi nel suo lavoro anche di attore? Entra nella sua vita perché come ti dicevo, facendo queste risse fra bande, dove peraltro quasi tutti praticavano arti marziali, erano gli anni 50, gli anni del rock and roll, gli idoli di Bruce Lee erano James Dean e Elvis Presley e lui tra l'altro amava molto un film sulla delinquenza giovanile che si chiamava, lo dico perché è un film importante che conosciamo anche noi, che si chiamava Il seme della violenza con Blaine Ford. Entrò il Kung Fu nella sua vita perché lui prese le botte, quindi essendo piccolino, gracile, allora il papà cercò delle palestre che lo accettassero, ma siccome era arrogante, siccome era a rivista, siccome non era paziente, non era tollerante, tutti i maestri lo rifiutavano perché non era uno qualunque era già noto. L'unico che lo accettò dopo vari tentativi fu questo maestro leggendario lì che si chiamava Ip Man, sul quale sono stati girati anche diversi film in tempi più recenti, che lo accettò per un motivo ben preciso, non perché fosse convinto di poterlo domare. Cioè, lo accettò come allievo perché loro fanno due distinzioni, c'è lo studente e c'è il discepolo. Allora, il discepolo è quello che segue il suo maestro anche in altre faccende che attengono alla palestra, spazza per terra, prepara il tè, eccetera, eccetera. Lo studente è semplicemente quello che paga la retta, fa due lezioni a settimana e se ne va. Il suo accettato come studente. Lorenzo, mi dicono che ti devo un attimo fermare, c'è la pubblicità e poi tra l'altro abbiamo l'ascoltatrice che vuole farti una domanda. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi Ritorno in Mente ogni mercoledì dalle ore 15 solo su Radio Libertà Bacini Bacetti Baciotti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura, la tua radio. Siamo tornati, cari radioascoltatori e anche telespettatori, perché ci vedono sul canale del digitale terrestre 252, ricordiamolo, a parlare di Bruce Lee con Lorenzo De Luca, sceneggiatore e grande conoscitore di Bruce Lee. ci stava raccontando un po' come l'arte marziale è entrata nella vita di Bruce Lee, ma dobbiamo un attimo interromperlo perché abbiamo... Ah sì, finiamo il discorso perché poi abbiamo l'ascoltatrice. Sì. Velocissimamente, Bruce Lee fu accettato da Ip Man perché era un attore famoso, bambino, quindi poteva portare pubblicità alla scuola, ma il suo maestro fu un altro, fu un allievo di Ip Man che era Wong Shun Leung, pronto alla domanda. Ok. Vai Lisetta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Hai visto che ti abbiamo ascoltato? Poche domande perché so già più o meno la sua storia. Volevo solo aggiungere, se non mi dispiace, che Bruce Lee era nato a San Francisco, quindi era americano e come tale avrebbe dovuto sostenere il servizio militare. Arrivandosi, mi sembra, durante la guerra del Vietnam, 1955-1955. No, no, assolutamente no. Eh sì. Bruce Lee non ha mai fatto il servizio militare. Quella era la guerra di Corea, peraltro, quella che dice la signora. Però sì, è vero che l'abbiamo detto che era cittadina americana e che tornò in America proprio per mantenere la cittadinanza. Fu riformata. Allora, io termino dicendovi, come è morto allora Bruce Lee? Ora, ora parliamo della morte, Lisetta. Aspetta, stiamo ancora alla vita. Finiamo la vita e poi parliamo della... È certo che ne parliamo. Lorenzo, adesso ci dirà tutto sulla morte di Bruce ed anche di Brandon. Grazie, Lisetta, adesso ti rispondiamo. C'è un'altra domanda invece su WhatsApp. Gianluca da Milano chiede, è vero che Bruce Lee intraprese profondi studi sulle arti marziali ma anche a livello mistico e monastico, Lorenzo? No, assolutamente no. Queste sono sciocchezze che circolano in rete dove ci sono molti video, soprattutto stranieri, che attribuiscono a Bruce Lee dei poteri soprannaturali. Ma in realtà sono video fatti da, chiedo scusa, da imbecilli per captare col sensazionalismo l'attenzione perché in realtà Bruce Lee stesso diceva il Kung Fu come ogni altra arte non è che un'espressione dell'essere umano. Non c'è nulla di soprannaturali. Devi solo trovarlo dentro, no? Sì, non c'era nessun misticismo, nessuna cosa monastica. Dissero anche che aveva studiato con un maestro Shaolin in Cina ma in realtà Bruce Lee in Cina non ci ha mai messo piede perché era chiusa agli stranieri la Cina quindi queste sono sciocchezze ma in rete se ne trovano tante. Eh, lo so ma non solo su Bruce Lee che è ancora vivo. La gente non è attenta cioè non legge abbastanza non legge abbastanza ma è sempre meglio leggere i libri che non guardare i video su web. O eventualmente anche i giornali accreditati di un certo tipo o accreditati o ascoltare noi ascoltare noi potete ascoltare noi comunque. Benissimo allora dopo aver risposto a queste domande veniamo alla morte a questo punto e quindi rispondiamo anche a Lisetta raccontaci un po' perché un po' come è andata e perché c'è questo mistero intorno a questa morte se veramente c'è un mistero. Allora il mistero purtroppo c'è ed è dovuto al fatto che le indagini l'inchiesta fu condotta con dei buchi grossi come come sempre diciamo come sempre parliamo pure di 50 anni fa la tecnologia forense insomma tutte queste cose erano sicuramente meno sviluppate di oggi però il mistero nasce da un motivo ben preciso oggi oggi qualcuno dice sei cospirazionista in realtà si chiama buonsenso e cioè Bruce Lee quello che destra il sospetto soprattutto col senno di poi è che è morto esattamente pochi giorni prima di tornare in America dove si sarebbe stabilito anzi ristabilito definitivamente e dove un mese dopo uscirà i tre dell'operazione Drago per cui voleva tornare a Hong Kong solo strettamente per ragioni di lavoro perché pare avesse confidato a chi gli era più vicino di non sentirsi più al sicuro cioè che a Hong Kong c'erano persone che ce l'avevano con lui il che è vero tutti gli attori personaggi hanno sempre dei detrattori a norma sicuramente il fatto che sia morto pochi giorni prima di ripartire è questo che destra il sospetto dopodiché un'altra cosa la menzogna detta dal suo socio Raymond Cho ai giornalisti nelle prime ore è morta a casa accanto alla moglie invece poi un giornalista scoprì il foglio di via dell'ambulanza era morto a casa di questa tra virgolette attrice nota per uso di droghe alcol e frequentazioni con le triadi nel suo letto l'autopsia è stata eseguita tre giorni dopo la morte perché prosegue è morto di venerdì sera l'hanno eseguita lunedì quindi il secondo ci fu anche un ritardo nei soccorci nel senso che lei chiamo tardi secondo l'autore di quel libro esistono segreti di erboristeria cinese velini non riscontrabili in un'autopsia eseguita tre giorni dopo soprattutto come stavo per dire tu meno male che l'hai anticipato se uno viene a casa tua Laura un personaggio famoso e accusa un malore tu qual è la prima cosa che fai? chiamo subito il 118 non aspetti un'ora e mezza che ovviamente era già bello la persona nella cui casa Bruce Lee era prima ha chiamato la moglie e il fratello cioè la moglie di Betty scusa la mamma di Betty e il fratello di Betty cioè prima ha chiamato i propri familiari per farsi confortare perché mi ricorda qualcuno lo sai ecco qui vicino alle parti tue poi ha chiamato il socio di Bruce Lee Ray Moncio che gli aspettava al ristorante Ray Moncio è tornato non esisteva il teletrasporto quindi ci avrà messo del tempo poi non riuscendo a svegliarlo perché stava nel letto di Betty chiamarono un medico generico il medico delle star che tutti lì conoscevano i personaggi dello spettacolo che cercò di rianimare Bruce Lee altro tempo perso dopo più di un'ora forse un'ora e mezza qualcuno dice anche due se sotto decisi a chiamare l'ambulanza ma neanche dall'ospedale più vicino che distava 500 medici se potevano da piedi a chiamarli ma dall'ospedale più lontano perché come dirà poi il dottore all'inchiesta quando appunto gli dissero perché ha chiamato e lui rispose beh tanto ormai non si svegliava più per meno il fattore tempo non aveva più importanza infatti è scritto giunto deceduto no? morto dead on arrival morto all'arrivo viceversa la prima volta che ebbe quel malore ammesso che si sia trattato di quello il 10 maggio un paio di mesi prima è stato soccorso immantinente lo hanno salvato tirandolo proprio per i capelli somministrandogli perché avevano notato che gli si era gonfiato il cervello con le lastre le radiografie quindi gli somministrarono una sostanza il manitolo il gonfiore e piano piano nei giorni si riprese fu soccorso subito sì e là invece hanno tardato più di un'ora a chiamare l'ambulanza e quindi sono sorte tutta una serie di teorie ultima e non ultima in realtà la più clamorosa la più clamorosa questa non la sa praticamente nessuno io l'ho scoperta a Hong Kong quando sono andato lì tanti anni fa a fare un documentario all'inchiesta che è seguita la morte di Bruce Lee sono stati ascoltati tutti tutti un altro po' pure il giardiniere tranne l'ultima persona ad averlo visto io cioè Betty Timpey che non è mai stata ascoltata dal gran giurì perché a un certo punto salsò in piedi il presidente Egbert Tung che disse abbiamo tutti gli elementi che ci servono per concludere l'inchiesta non ci serve di ascoltare la signorina Betty Timpey che stava nell'altra stanza e i giornalisti furono scandalizzati perché dissero ma come ma almeno per proforma ripeterà magari le stesse cose che sappiamo ma la vuoi interrogare davanti a tutti perché la stampa era andata lì invece l'ultima persona che ha visto io Bruce Lee non è stata mai sentita non è stata neanche avvicinata dalla polizia perché non si poteva avvicinare perché era circondata c'era un cordone degli uomini delle triadi tutto quello che noi sappiamo sulla morte di Bruce Lee è perché Betty Timpey lo ha scritto su un foglietto di quaderno lo ha affidato al suo avvocato il suo avvocato lo ha dato agli inquirenti e questo è tutto quello che hanno fatto cioè non l'hanno nemmeno interrogata nel momento e qui sorsero poi i giornalisti dicevano è ovvio perché siccome la signorina è tossica alcolista pare che non fosse in Aguila cioè una che poteva accadere facilmente in contraddizione se messa sotto torchio quindi hanno evitato le male lingue i malpensanti hanno detto forse è arrivata qualche telefonata dall'alto e gli hanno detto quella non la dovete sentire perché avevano paura che crollasse come in realtà può darsi anche di no però la verità è che questa cosa clamorosa ma basta già questa crea un mistero senti ma perché sì dimmi perché nessuno poi ha voluto non so se si può poi come da noi cioè fare una revisione visto che siamo in periodo di revisioni statisticamente parlando Hong Kong aveva il corpo il secondo corpo di polizia più corrotto al mondo dopo quello di Los Angeles tutti i poliziotti il 95 insomma una cifra spropositata erano sul libro paga delle triadi si arruolavano per quello per prendere due stipendi quello ufficiale e quello ufficioso quindi e questo valeva anche per molta magistratura inoltre devi considerare dobbiamo considerare una cosa che a noi oggi sfugge perché non eravamo nati o eravamo piccoli come nel mio caso Hong Kong era una polveriera Hong Kong era una città dove ogni due per tre scoppiavano rivolte perché c'era era una città cinese ma non senza essere comunista c'era chi voleva rimanere sotto il protettorato britannico c'era chi ancora oggi ancora oggi quindi le autorità gli domani della morte di Bruce Lee quando scoppiarono i tumulti in piazza e centinaia di ragazzi si riversarono nelle strade ci furono scontri con la polizia perché volevano sapere di cosa era morto sono stati fatti funerali che ancora neanche si sapeva che cosa successe che le autorità come è stato poi ricostruita a posteriori avranno detto cioè non cercavano la verità cercavano una verità per mettere il tappo sulla faccenda e rifatti due poliziotti poi molti anni dopo in tempi più recenti più vicini hanno dichiarato che all'epoca della morte di Bruce Lee fu un gigantesco cover up a livello proprio di perché avevano già talmente tanti guai che anche delle rivolte nelle strade per colpa di Bruce Lee quindi dice trovate una verità la verità poi magari sarà stata effettivamente quella cioè è andata attraverso una aspirina magari è stato anche quello perché può succedere che una aspirina che non fa effetto le quaggesi la fattispecie della quale erano state vendute un milione di copie di flaconi e non aveva avuto per quello che si sapeva effetti collaterali avversi su nessuno uno su un milione Bruce Lee ci muore quindi può assicurare che sia stato quello però fermetti che qualche dubbio certo senti ma un dottore scusami un dottore parlò di avvelenamento cronico un dottore americano che esaminò i referti tu parlavi di revisione appunto disse possiamo escludere l'avvelenamento acuto cioè che io te faccio una dose e te ne vai ma non possiamo escludere l'avvelenamento cronico ossia che piano piano perché di fatto Bruce Lee quando stava a Hong Kong stava male deperiva disidratava basta guardare la sua forma fisica nell'ultimo film era avvizzito quando stava in America cioè fuori dal suo giro usuale stava bene qualcuno ha invocato le droghe sì è vero Bruce Lee negli ultimi due anni consumava occasionalmente anche droghe ma di fatto nell'autopsia tutto ciò che hanno riscontrato è stata l'aspirina e una dose irrisoria equivalente sostanzialmente a uno spinello di cannabis masticata e infatti il più grande esperto di droghe di allora del mondo il professor Thier di Scotland Yard disse all'ospedale di Hong Kong che voleva attribuire la morte alla droga perché non sapevano spiegarsi come mai gli si era gonfiato il cervello e era morto da neurisma e lui gli disse voi non vi potete permettere di attribuire la morte alla droga perché sarebbe come dire che Bruce Lee il giorno che è morto ha bevuto una tazza di tè molto forte qualcuno è mai morto per il tè quindi se voi lo fate io vi smentisco perché io sono un'autorità lui aveva fatto 20.000 autopsie tra cui Jimi Hendrix quindi era il massimo luminare al mondo se Bruce Lee fosse morto di droga lui era il primo che l'avrebbe notato quindi i misteri ci sono i misteri ci sono ma appunto ripeto oggi dopo così tanto tempo non si potrebbe in qualche modo tentare di riesaminare c'è qualche reperto o non lo so dall'autopsia fare un altro tipo di analisi sull'autopsia sì ma quello come sai dovrebbero volerlo le eredi cioè la moglie che si è risposata altre due volte e la sorella che ha fondato su Bruce Lee la figlia di Bruce Lee Shannon quindi la sorella di Brandon che ha fondato la Bruce Lee estate per gestire l'immagine del padre ma siccome Bruce Lee rende più da morto che da vivo secondo me non c'è interesse a farlo rende più anche con il mistero della morte rende più ancora secondo i mani se ci sarà una flessione nelle vendite del merchandising magari daranno l'autorizzazione a fare una riepertura delle indagini perché pare a me non lo disse ma pare perché io con Brandon non ho avuto l'arroganza o la sfaccia d'aggine ecco infatti volevo parlarti proprio di Brandon adesso non gli ho chiesto come è morto tu padre perché sono domande indelicate però pare che lui sua nonna Grace cioè la mamma di Bruce Lee e lo zio Robert il fratello minore di Bruce Lee che aveva anche un altro fratello e due sorelle pare che loro non fossero mai stati convinti della tesi omicidiaria della tesi incidentale della disgrazia e questa cosa è testimoniata pure dal fatto che lo stesso Robert in un'intervista che io ho visto alla tv americana quando gli fanno sta domanda dice il referto dice quello noi dobbiamo stare al referto però in effetti con chiunque ho parlato è sembrato un po' strano dice e non dice sono più interpretabili i silenzi che le parole hanno paura di qualcuno probabilmente sì ma è una paura anche comprensibile allora nel 73 Linda rimane con la morte di Bruce Lee è una ragazza di 27 anni con due figli piccoli da crescere scappa da Hong Kong proprio scappa e prima di lasciare Hong Kong dice altra cosa sospetta fa una conferenza stampa e non si sapeva ancora di che Bruce Lee era morto perché si è saputo solamente due o tre mesi dopo lei dice voglio assolutamente rendere chiaro a tutti che non ritengo nessuno responsabile della morte di mio marito che non c'è nessuna responsabilità che è stata una disgrazia quando ancora non si sapeva nulla una escusazione non petita e questo vuoi pensare molti che stesse lanciando un messaggio a chi di dovere della serie io non voglio non vi rompo le scatole voi lasciatemi in pace non vi rompo le scatole e se ne ritornate in America veniamo dunque a Brandon anche la sua vita purtroppo anche la sua vita a breve poi terminata con un mistero insomma mitico interprete del Corvo figlio di Bruce appunto nato a Oakland in Oakland non a Oakland in Nuova Zelanda ma Oakland in California nel 65 vive a Hong Kong appunto un po' con il padre poi a 20 anni più o meno arriva negli States e anche lui diciamo in un modo o nell'altro entra a prendere la carriera cinematografica fino a quando nel 93 viene scelto per interpretare questo film di Alex Proyas e purtroppo muore sul set cosa celava la sua vita e la sua morte cosa cela la sua vita e la sua morte purtroppo lo sanno solo i morti ripeto da quello che io so ma sono voci perché io quando l'ho incontrato ci ho parlato di cinema perché era uscito in Italia stavo uscendo in Italia con il suo film e quindi abbiamo parlato di quello poi ci siamo visti altre due volte sempre in quei pochi giorni che è stato qua però il fatto è che Brandon è cresciuto lui aveva otto anni quando il papà è morto quindi sostanzialmente poi sono tornati in America quindi lui è cresciuto mentre man mano cresceva anche in America la leggenda del padre quindi crescendo lui è cercato di ricostruire a ritroso la personalità del papà parlando anche con quelli che erano stati i suoi amici e allievi fra i quali Danny Nosanto grande esperto di arti marziali americano d'origine filippina grande amico intimo di Bruce Lee al quale insegnò l'uso del nunciagu e Bruce Lee a sua volta insegnò lui il Gikung Do e tra l'altro Danny Nosanto diceva e questo me lo ha fatto sapere proprio il maestro Roberto Castagnini della Modern Silat Cali Academy di Roma che secondo Danny Nosanto Brandon Lee era potenzialmente molto più forte del padre ah ecco infatti ti volevo proprio chiedere questo ma non gli interessavano le arti marziali da quel punto di vista dal punto di vista della divulgazione Brandon voleva così mi disse diventare un attore a 360 gradi e mi fece l'esempio di Gary Oldman Robert Duvall beh era molto bello era bellissimo ragazzi io quando l'ho visto sono rimasto bellissimo ma non tanto per la bellezza ma perché c'era gli stessi occhi del padre intenso sì 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 avrebbe intenso io direi che proprio Gary Oldman sì proprio il si poteva somigliare papà non aveva gli occhi azzurri era più basso anche se Bruce Lee era per i canoni cinesi bellissimi era chiamato dalla stampa la land de l'on francese Brandon Lee era americano proprio anche fisicamente alto costituzione fisica robusta infatti lui mi disse io l'unica cosa che ho in comune con papà è che mia madre ci abbiamo avuto in comune la stessa donna Linda perché i vestiti suoi mancome vanno però lui non voleva diventare un un emolo del papà un sacerdote delle arti marziali probabilmente soffriva un po' questa cosa di essere figlio di Bruce Lee secondo te cioè tu cosa hai percepito? no no io gliel'ho proprio detto cioè non è che c'era da percepire perché tanto io pensavo allora io gli avevo portato un soggetto facendo lo sceneggiatore all'epoca muovevo i primi passi in quel senso quindi con l'entusiasmo e l'ingenuità che se ha a vent'anni o poco più gli portai un soggetto per un poliziesco da girarsi in Italia sull'invasione delle triadi in Italia bello che era fantascienza nell'epoca infatti non trovai produttori la Rai lo voleva fare stamparono anche la Locandina allora il protagonista era Franco Nero ah beh insieme a Franco Nero io ci avrei visto lui certo e glielo portai e quindi perché per me era un attore era figlio del Bruce Lee e sono andato per quello principalmente però già che c'ero però questa è la cosa allora Brandon Lee a differenza di altri personaggi che ho incontrato poi come Jackie Chan come Van Damme eccetera era uno che a domanda risponde cioè non faceva grandi paneggirici di parole andava diritto al punto non era chiacchierone e io gli ho chiesto tante cose alcune sono finite nell'intervista altre no perché diciamo le ritenevo di interesse più mio personale che non per il grande pubblico lui era convintissimo era consapevole perché era un ragazzo intelligente lui ha detto io lo so che i ruoli che mi stanno offrendo me li offrono per il cognome che porto ma secondo me era anche stupido non approfittarmi ah beh certo sono d'accordo non c'è nulla di male però lui diceva se tu hai scritto dei libri su mio padre Dio ti benedica però lui voleva diventare un attore come Morgan Freeman che lui reputava il più grande attore d'America dice poco quindi non ci teneva a essere identificato col Kung Fu però quello gli offrivano ai primi tempi quindi qualcosina in quel senso affatto non sembrava neanche il granché come sullo schermo come atleta e poi invece Castagnini il maestro che ci ha messo in contatto ha detto guarda che Inosanti che è il maestro di Castagnini e è stato il maestro di Brandon ha detto che potenzialmente se lui avesse voluto prendere la strada del padre era due o tre volte più forte di Bruce Lee veniamo alla sua morte quindi il 31 marzo 93 Brandon viene ferito involontariamente dicono e mortalmente appunto da un colpo di pistola mentre sta recitando durante una scena in cui tra l'altro il suo personaggio Eric torna nella sua abitazione e ricorda il momento della sua morte l'arma che lo uccide era in mano a Michael Massey che era fanboy nel film e vabbè insomma si dice appunto che doveva essere cioè non sapeva che fosse caricato oppure c'era stato un meccanismo insomma rotto nella pistola per cui è partito sto colpo sta di fatto che poverino insomma questo ovviamente può aver alimentato sicuramente l'interesse in questo film però tu cosa ne pensi di questa invece io ho saputo della morte di Brandon prima che lo sapessero ovviamente le poche ore prima che diventasse di pubblico dominio perché mi telefonarono persone comunque dentro e la prima cosa che mi hanno detto a me al telefono mi ha detto è morto perché è andato male un effetto speciale probabilmente il sacchetto perché loro quando fanno le scene del sangue che esplode ci hanno addosso una vescica controllata da remoto che viene fatta esplodere elettronicamente elettricamente allora la prima cosa che mi disse a me al telefono probabilmente è andata male c'aveva sta cosa addosso che l'esplosione è stata troppo forte e l'ha sventrato poi piano piano sono uscite fuori tutte le altre cose alla fine si è saputo però anche qui ripeto quelli che vengono chiamati cospirazionisti dagli store di Telly che fanno anche video sulla morte di Brandon Lee dicono ecco come è morto Brandon Lee non c'è nessun mistero in realtà gente che non era neanche nata all'epoca non ha mai aperto un libro non ha mai allora per legge non si possono portare pallottole che sul set e questo ci arriverebbe anche uno come me che ha due neuroni e manco si incontrano se si incontrano non si salutano quindi già questa allora siamo quasi per terminare quindi andiamo al punto sì sinteticamente Brandon Lee è stato ucciso dall'ogiva di un proiettile vera sì e questa ogiva secondo quanto ricostruito poi siccome non c'è stato un processo perché anche qui le eredi hanno preferito l'accordo economico extra giudiziale prendere i soldi subito non andare a processo quindi accettare la verità fornita dalla controparte che aveva tutto l'interesse a scagionarsi e la verità fornita dalla controparte è che lo so Faride ma io ve la devo il tempo è poco cercherò di sintetizzare ma in realtà è complessa in un film da 13 milioni di dollari finiscono i soldi per le pallottore a salve loro non sapendo come girarsi come erano ottene il maestro d'armi già filmata si ricorda cioè questa qui è la scusa di aver trovato casualmente sul set un caricatore pieno di munizioni siccome i tempi di lavorazione erano strettissimi si dimentica di denunciarla alla polizia lo mette da parte in camerino dice se no finisce in mani sbagliate giorni dopo sono a corto di pallottole loro usano le pallottole a salve che sono vere ma hanno diciamo mezza carica di polvere da sparo e non hanno logiva quindi fanno solo boom e poi hanno le cosiddette dammis che sono pallottole intere ma senza polvere da sparo servono per le inquadrature in dettaglio loro le hanno finite le dammis allora lui che fa il genio insieme agli armieri il maestro d'armi sega le pallottole vere che hanno trovato incidentemente sul set toglie la polvere da sparo riattacca la punta girano la scena che devono girare poi nel rimuovere le pallottole e gli armieri si scorni cioè non notano che una di queste ha perso la punta che rimane incastrata nella pistola giorni dopo devono girare la scena della morte di Brandon Lee fanno tre chak i primi due non succede niente al terzo parte l'ogiva che era rimasta incastrata prima propulsa dalla pallotto la salve che è stata innescata dopo cioè la fantascienza e qui chiudiamo un giornalista investigativo americano Gaspain ha scritto anche un libro che non è stato querelato ha ricostruito questo incidente con l'aiuto di un armiere sparando due volte ad un sacco ricostruendo le stesse modalità distanza calibro e tutto la pistola era una Magnum adesso non ricordo il calibro perché andiamo di corsa ha sparato due volte la prima volta la pallotto l'ha fatto sul sacco e poi è caduta a terra non è penetrata perché era come tirarla a mano e la seconda volta non c'è neanche arrivata è uscita dalla canna e è caduta giù perché non c'era modo che un'ogiva messa dentro una canna con un proiettile che fa boom partisse se non è attaccata al proiettile quindi lui sostiene che sia stato un omicidio le cause dell'omicidio le possiamo sopporre ma non le sapremo mai si dice che Brandon Lee volesse riaprire le indagini sulla morte del padre e che siccome le triadi le medesime che sarebbero dietro alla morte del padre condannano fino alla settima generazione quindi lui ha fatto la fine là ultima cosa abnorme Brandon è morto esattamente come moriva il personaggio tra virgolette perché non era lui di Bruce Lee nel film apostumo l'ultimo combattimento dicendo che lui viene sparato sul set lì era finzione quale era realtà la vita abbia imitato l'arte però l'ha imitata in una maniera che se è un incidente proprio allora è vero che la sfiga ci vede benissimo senti Lorenzo purtroppo dobbiamo chiudere però io credo che ci possiamo dare anche un altro appuntamento per approfondire ancora magari anche quegli altri personaggi di cui parlavi a questo punto possiamo anche inaugurare un filone legato ai misteri del cinema dei grandi protagonisti del cinema facciamolo insieme risenziamoci dottori morti giovani in circostanze anche più drammatiche e misteriose alcuni addirittura spariti scompassi così era la punta dell'iceberg direi di il poleste può trovare lo dico così io ho un canale tematico su youtube Dragonland che parla di questo e venitemi a trovare e ci facciamo degli altri bravo e per chiudere volevo darvi appuntamento a mercoledì prossimo parleremo probabilmente di uno dei misteri di una delle scomparse più incredibili d'Italia di cui si parla ancora oggi però non vi anticipo nulla e niente buona giornata e buon giallo a tutti grazie grazie Lorenzo grazie della chiacchierata arrivederci alla prossima avete ascoltato giallo radio club